Lo sapevi che la ceramica italiana riduce al minimo il consumo di acqua, preservando così bacini idrici e falde acquifere? L'ultimo rapporto ambientale integrato di settore ha evidenziato un fattore medio di recupero delle acque del 107%. Le aziende prese in esame non solo riciclano la quantità totale delle proprie acque reflue, ma ne assorbono anche una quota proveniente da altri settori industriali, soddisfacendo gran parte del proprio fabbisogno idrico. I valori rilevati dal rapporto ambientale integrato si collocano ben al di sopra del limite del 97% prescritto dalle batte di settore e in certi casi raggiungono un massimo di 360%. Inoltre, nessun impianto ha registrato valori inferiori alla soglia dell'ecolabel del 50%. Questa attenzione all'ambiente si traduce in 30.000 ettolitri di acqua risparmiati ogni anno, con un conseguente risparmio di risorse idriche. Scopri tutti i video sulla sostenibilità della ceramica italiana su ceramica.info. Nessuno al mondo è come la ceramica italiana.